Alessandro Nel seminario impariamo a badare a noi stessi, ci preoccupiamo della pulizia e perfino della cucina, facciamo esperienza con i poveri e riflettiamo sulla parola di Dio. Ogni giorno al mattino celebriamo la Santa Messa che dà il tono alle nostre giornate e dà la nostra vita da seminaristi. Grazie a tutti.